La sentenza per la morte di Samana La sentenza per la morte di Samana La sentenza per la morte di Samana Buonasera dal TG2 Due anni e otto mesi dopo l'omicidio di Samana Abbas Uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan La corte di Assise di Reggio Emilia ha condannato i genitori all'ergastolo 14 anni per lo zio della diciottenne L'inviata Silvia Squizzato È tutto, ora TG2 Post con Manuela Moreno Stasera ospite studio e il ministro degli esteri Antonio Tagliani Buon proseguimento di serata E con questo nuovissimo video è tutto Mi raccomando iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace E mettete la campanella Per non perdervi i nostri nuovi video Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao